Io fra poco ci trama la mamma per mangiare, quindi metti tutto a posto. Sono piccolina, guarda tu! Va bene piccolina, però adesso ti devo togliere l'iPad, perché i bambini piccoli non usano l'iPad. Che cavolo tu! Vuoi il ciuccio? Ecco qua! Che piccolina! Voglio latte! Ecco, l'ha appena preparato! Mi dammi i bicchieri che non riesco a bere! Sei piccolina! Va bene! Forse vuoi mangiare? Sì sì, questo è meglio! Ecco il cibo! Wow! È buona? Brava bambina! O così! Voglio giocare la mamma! No! Sei piccolina! Adesso devi andare a letto! Buono! Una cosa, devo fare la pipì! Pannolino! È meglio il vasino! Vado a prenderlo! Ecco il pannolino! Ma guarda, c'è la luna! Ragazzi, io vado! È arrivata la vostra tata! Ciao! Ciao! Va bene! Ciao bambine! Sono un'altra tata! Ciao! Giochiamo? Brava bambina! Che cos'è questo? Sono allergica ai animali dimentici! Questo è un mio crescettino! Portalo di là! Giochiamo! Andate a fare compiti! Subito! Va bene! Giochiamo! No! Facchetto! No! Ma c'è? No! T'è l'ho! T'è l'ho! T'è l'ho! Non c'è l'ho! Sì! musica 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 stai arrivando tata chico vai là musica cosa succede siamo rovere va bene musica musica io vado criceto puoi uscire musica 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 stiamo facendo i campi musica musica va bene io vado cico perché non esci ahhh non c'è più cico c'è che non c'è più c'è che non c'è più compara ogni volta così ma ci lascia dei regali ahhh io ho il braccio di sofficlone piccolone e un pacchetto di figurine ecco i tattoo vediamo quali ci sono guarda che tatuaggio ho fatto guardami i tatuaggi quanti sono allora adesso apriamo le bolle oh guardate nooo wow e va guarda cosa ho trovato cosa? questa figurina sembra la nostra tata andiamo a fargli uno scherzo sì che ora sono? è arrivata la mamma la mamma sono tornata avete giocato? sì 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 mmm oh cucchiaio oh che robato oh oh gotella dana 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 uffa a da dana s ti ha rubato il mio cibo polizia, vieni qua rubate il cibo che cosa succede? qualcuno mi ha rubato il cibo ok, vediamo un po' io ho un'idea hai ancora dei dolci? sì ecco prendiamo il mio uno andiamo ancora è rubato facciamo un'altra cosa no 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 E guardate i nostri video Ciao